Salve a tutti amici di Campania Nel Pallone, siamo alla vigilia di Sampdoria Napoli, gara valevole per la trentesima giornata di Serie A che si disputerà domani allo stadio Marassi di Genova, il fischio d'inizio alle ore 15. Napoli che dunque si appresta ad affrontare la formazione blucerchiata in trasferta dopo la sconfitta contro la Juventus. Una gara quella dell'Allianz Stadium che ha lasciato l'amaro in bocca ma gli azzurri dovranno essere subito pronti a metterci una pietra sopra e a ripartire con il piede sull'acceleratore in vista della partita di domani in cui i tre punti sono obbligatori per continuare ad inseguire il quarto posto in classifica. Napoli attualmente quinto a quota 56 punti a due lunghezze di distacco dall'Atalanta quarta a tre dalla Juventus terza e a quattro dal Milan secondo dunque tutto aperto per quanto riguarda la Corsa Champions e gli uomini di Gattuso ovviamente si augurano anche di poter usufruire di un passo falso da parte di almeno una delle tre dirette concorrenti ma è chiaro che in ogni caso il margine di errore adesso è veramente ridotto all'osso ci sono nove finali da disputare nelle quali vanno conquistati quanti più punti possibili e in questo finale di campionato servirà un rendimento di prestazioni e ancora di più di risultati di alto livello. Di fronte ci sarà una Sampdoria a decima in classifica a quota 39 punti la formazione guidata da Claudio Ranieri è reduce dal pareggio per 1 a 1 a San Siro contro il Milan una gara in cui la formazione doriana ha fornito un'ottima prestazione e fino al momento in cui è rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione del centrocampista Adrienne Silva ha concesso poco o nulla al Milan che ha acciuffato il pari soltanto nei minuti finali e si tratta certamente di una squadra molto insidiosa che è capace comunque di esprimersi su buoni livelli di gioco e ha tratti anche di difendersi con ottima solidità la Sampdoria ha tra le proprie fila calciatori di indiscusse qualità tecniche su tutti l'ex Napoli Fabio Quagliarella così come Antonio Candreva e l'altro ex che farà coppia d'attacco proprio con Fabio Quagliarella Manolo Gabbiadini. Riguardo all'undici titolare con cui il Napoli scenderà in campo Gattuso dovrebbe attuare cinque cambi rispetto alla formazione schierata contro la Juventus. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina questa volta l'estremo difensore colombiano dovrebbe farcela a scendere in campo. In difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto la coppia di centrali Manolas-Coulibaly mentre sulle fasce aggiranno Di Lorenzo a destra con Mario Rui sulla corsia opposta. In mediana dovrebbe essere confermato il duo Fabian Ruiz-Demme mentre in avanti dovrebbero esserci due variazioni. A guidare l'attacco questa volta ci dovrebbe essere Victor Rosiman e non Dries Mertens. Il nigeriano va dunque verso una maglia da titolare dopo il buon ingresso in campo nel match di Torino. E alle spalle della punta c'è un ballottaggio tra Politano e Lozano nel quale parte in vantaggio l'esterno offensivo italiano che dunque dovrebbe andare a comporre il tridente insieme a Zielinski e ad Insigne. E dunque detto questo è tutto. Auguro un buon proseguimento di giornata a tutti dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel pallone.